La cultura e l'arte diventano megafono per una riflessione sui diritti delle donne con l'esposizione di Matilde Morgantini in Chiasso Barletti. Sono 13 le donne rappresentate, anche molto diverse tra loro, che hanno contribuito con il loro impegno, vita e lotta all'emancipazione femminile. La mostra è stata realizzata grazie all'impegno e la sinergia delle botteghe di Chiasso Barletti e dell'assessorata al commercio. È stata una bella collaborazione con Matilde Morgantini che si è resa disponibile a donare le sue opere per l'esposizione nella via per sensibilizzare ancora di più l'attenzione su questa giornata che è molto importante. Sono 13 donne rappresentate che si sono distinte ovviamente nella storia, nel mondo del cinema, come Anna Magnani, nel mondo della scienza, come Margherita Hack e ovviamente hanno contribuito all'emancipazione del femminile. Un esempio da portare per tutto il centro storico è questa sinergia tra le varie attività, cosa che ci auspichiamo che possa essere un progetto pilota per poi tutte le vie e i centri commerciali naturali. Soddisfazione anche da parte dei titolari delle attività. Sì, io ho scelto Malala, questa che ha preso premio Nobel per la pace, proprio per la sua lotta per l'istruzione delle bambine in Pakistan contro la repressione talebana. Oggi di fronte alla bottega di Benedetta abbiamo Margherita Hack. Sì, è una donna che io ammiro profondamente perché la trovo ancora tutt'oggi contemporanea nelle sue idee, nell'apertura mentale che aveva, col fatto che era aperta a tutto e a tutti e accoglieva veramente ogni pensiero. E per me è importante accogliere lo stesso, tutto e tutti.